Ospitato come da tradizione a bordo dell'incrociatore a porte aeromobili Giuseppe Garibaldi della Marina Militare, si è concluso il campionato interforze di tiro a volo. Organizzato con la collaborazione dello Stato Maggiore della Marina Militare, si è svolto nella stazione navale di Margrande, giunto alla 29esima edizione nella specialità Double Trap e Valso come campionato italiano. Si sono dati battaglie a 108 atleti. I tiratori si sono sfidati sulla distanza di 100 piattelli ciascuno per conquistare il prestigioso titolo in palio. Inoltre sul ponte della nave Garibaldi hanno gareggiato anche i tiratori del settore giovanile FITAV che si sono cimentati in un Grand Prix a loro dedicato. Questi i vincitori, primo classificato Matteo Marongiu delle Fiamme Oro, secondo classificato Diego Valeri della Marina Militare, terzo classificato Mattia Polidori delle Fiamme Azzurre.